C'è una nostra comunicazione ufficiale, nessuno di noi parla e a fronte di una comunicazione ufficiale che prevede una lesione di secondo grado del bicipite femorale non puoi dire che rientra con la Roma. Non so se mi spiego, c'è una comunicazione ufficiale, perché ritorniamo al discorso di Murigno e delle altre cose, cioè illudi le situazioni, perché se è una lesione di secondo grado il nostro dottore mi spiega che è una lesione grave. Non voglio fare tempi perché ci fa del titolo, ma non è la partita con la Roma. Quindi la nostra dichiarazione, la dichiarazione del settore medico, cozza con l'interpretazione dei giornali. Io tifoso dico spero che recupero Palacio con la Roma, ma la nostra dichiarazione è un'altra.